I carabinieri della stazione di Oppidome a Mertina sono riusciti a far luce su due episodi che hanno allarmato la popolazione del Comune Nergino nei giorni scorsi. In ben due occasioni è stata segnalata la presenza di un uomo armato di pistola che esplodeva alcuni colpi di arma da fuoco per strada, causando il panico sia tra i presenti che tra i residenti. Immediate scattano le indagini con la visione delle telecamere di sorveglianza della zona che hanno registrato un soggetto appena maggiorenne, i cui movimenti e la cui presenza sono coerenti con i fatti denunciati. A questo punto viene predisposta una perquisizione nell'abitazione di un soggetto che sembrerebbe l'uomo visto nelle telecamere, rinvenendo così gli abiti indossati la sera dagli spari registrati dalle telecamere. È una pistola salve calibro 92 priva di tappo rosso. Il giovane, un diciottenne di Opido Mamertina, è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria, accusato di esplosioni pericolose e porto e detenzione abusiva di armi.